Il parroco della chiesa greco ortodossa di Bologna, padre Dionisios, papa Vassiliu, è stato eletto all'episcopato. Infatti il santo sinodo del patriarcato ecumenico, riunito lunedì 28 presso la chiesa patriarcale di Costantinopoli, ha approvato la sua elezione come vescovo ausiliare del metropolita d'Italia Polikarpos, assegnandogli il titolo dell'antica diocesi di Cotieion. Insieme con lui il santo sinodo ha approvato l'elezione di altri due sacerdoti che affiancheranno il metropolita Polikarpos come vescovi ausiliari in Italia, padre Giorgio, parroco di Napoli, che è stato eletto titolare di Crateia, e padre Athenagoras, vescovo eletto di Terme, che presta servizio nel monastero di Montaner in provincia di Treviso. In particolare padre Dionisios è legato da profonda amicizia con la diocesi cattolica bolognese, originario di Dramma nella regione greca della Tracia, dove è nato 50 anni fa, è stato ordinato prete nel 96 a Salonico e nel 99 ha inaugurato la parrocchia greco-ortodossa di San Demetrio, nata da un accordo stretto dall'allora arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Biffi, e l'allora metropolita ortodosso d'Italia, Gennadios. Padre Dionisios vive da quel momento in città e partecipa a tutti i momenti salienti della vita ecclesiale cittadina e grazie anche a questa sua collaborazione la nostra città ha accolto più volte il patriarca ecumenico, sua santità Bartolomeo di Costantinopoli. Il cardinale Matteo Zuppi ha espresso al nuovo vescovo che manterrà la sua residenza a Bologna le felicitazioni della Chiesa bolognese sotto la guida del metropolita Policarpos. Felicitazioni sono state espresse dalla Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo e in particolare dalla Facoltà teologica dell'Emilia Romagna, che ha rilevato con soddisfazione come il nuovo vescovo sia il primo sacerdote ortodosso ad avere conseguito il dottorato presso questa istituzione con una tesi sul concetto di primato Petrino nel dibattito teologico tra le Chiese nel XIII secolo. L'ordinazione episcopale di Sua Eccellenza Dionisios avrà luogo a Venezia nella Cattedrale Ortodossa di San Giorgio nella mattinata di martedì 6 dicembre festa di San Nicola di Mira. Nella mattinata di domenica 11 dicembre il nuovo vescovo presiederà la sua prima celebrazione pontificale nella parrocchia di San Demetrio a Bologna.